Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono Manu e oggi ragazzi siamo qui tornati su Fortrait Ragazzi oggi è uscita la season, un po' in ritardo sono a registrare, chiedo scusa a tutti, avete ragione Ragazzi oggi andremo a fare la reaction a tutto il pass battaglia, capitolo 4, stagione 3, stagione giungla signori Ovviamente qui abbiamo il nostro solito pass battaglia, 950 VBAC e per chi vuole abbiamo anche la crew di Fortnet Più ovviamente pass battaglia gratis, 7000 VBAC, anche il Rocket Pass di Rocket League che non è male, attenzione Comunque iniziamo subito, ai primi livelli abbiamo, era schermata di caricamento, era classica, una copertura Spezza tempo, un deltaplano cavalcabile molto figo Mi racconto ragazzi se non avete ancora fatto lasciate un like sotto questo video per il supporto E se non avete ancora fatto iscrivetevi, non vi costa nulla e a me mi regalate un sorriso Cogli il futuro, un disco dei soliti VBAC, i VBAC non li diremmo raga Serrame di Knognos, ok tipo un orologio, il conto alla rovescia, che figo una scia E qui e noi abbiamo, era la nostra skin iniziale, molto bella signori Poi Ramingo, quindi rappresenta il personaggio Ramingo minaccioso, poi abbiamo lancia del nomade, quindi il suo piccone libra la mente Che figo Poi surfista psionico, psionico si, ok ci sta Farfalle precipitanti, una scia E qui abbiamo Ramingo, seconda skin del pass battaglia, molto carina Ramingo ribelle, poi vabbè stendardo, vetro risonante che è il suo backpack Linee mimetiche, infatti saranno di Ramingo Ramingo sapiente E Ramingo ribelle, molto bello con quel marsupio Rian, la sua schermata di caricamento Jam di Jule, ok Ascia Max in fusione Poi trinciatrice elettrica nella sua chitarra Ruggito di Rian e Rian, la skin Terza del pass battaglia Rian, la travolgente Ok, fa parte sempre della giungla Ascia Max in fusione Abbiamo anche la motosega Sbrecciatrice, raga Bellissima Un disco volante praticamente Sempre cavalcabile Riff velenoso Poi va tutto bene Questo si intravedeva anche nel trailer Rian, eccola qui Altra skin del pass battaglia Molto carina Relix Un tipo sempre la giungla Da perdere la testa Quindi un vulcano Frana Una scia Dopo che ci buttiamo Litico Ci sta Ci sta Poi tracciatore di segnale Quindi un backpack di Relic E qui abbiamo Relic Un metà umano Metà lava Metà osso Poi Relic Camminatore degli Abissi Ok E lui quello che si vedeva Nel trailer Portata del Cacciatore Poi Relic Chiama E abbiamo Ricognitore Celeste Il suo Delta Plano Di Relic Camminatore degli Abissi Non è male Non è male Raga Molto bello Poi abbiamo Mariposa Che non è male Guardate che figa Poi abbiamo Ali Calzadona Calzadora Calzadora Su Delta Plano Poi abbiamo Mariposa Skin del pass battaglia Mariposa di Mezzanotte Bellissimo Già la intravedo Squartatori della Luccia Belli come Come guanti Conta Due Tre Tin 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 Ci sta Mariposa di Mezzanotte Infatti è una lottatrice Lei Lorenzo Ok Taglia Cespugli L'avventura Chiama Sempre a parte di Lorenzo Punta Nord Punta Nord Deluxe Una bussola Macete No Machete Machete da Predone Non credo sia Machete Lorenzo Ci sta Bello Un grande esploratore Lorenzo L'Impetuoso Schermata di caricamento Picchiata A drone Quindi una scia Avventura Aerea Il suo deltaplano Lorenzo Esploratore Spray Poi abbiamo Emote Razzi Drammatici Ok Quelli Tipo il segnale Venite a prendere Lorenzo L'Impetuoso Ok Figo 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 Era Iconica Ok Schermata di caricamento Era Iconica Poi Vortice Temporale E poi Traslazione Ancestrale Ed è la prima skin Raga Era senza tempo Serame di Kronos Vabbè sono degli stili Praticamente Era senza tempo Guardate che figo Optimus Spray Che figo Raga Emblema Autobot Optimus Spray G1 Che figata In marcia Poi abbiamo Ascia Di Cybertron Non male E poi Cannone A rotaia Che bello Raga E qui Optimus Spray Abbiamo L'ultima skin Del pass battaglia Che non è Per nulla male Qui abbiamo Le varie ricompense Ve le faccio vedere Senza legge Che apparentemente Sono degli stili In più Raga Non male Non male Poi abbiamo Motoseg Eccetera Poi abbiamo Lorenzo Il temerario Molto carino Anche lui Poi Vabbè Sempre che fanno parte Anche delle altre skin E abbiamo Temperato In battaglia Ah Optimus Spray Tipo Malmenato Male male E qui abbiamo I stili Che pian piano avremo Merinaio Fondamentale Ricompense In carichi Signori In carichi Stagionali Lancia Del nomade Poi abbiamo Icona Stendardo Ali calzadora Ramingo Luminare Poi abbiamo Avventura aerea Era pronta Alla battaglia Punta nord Deluxe Ok Scavadune Che figo E a tema Come si chiama Miascolo Ok Relix Guardia selvaggia Bellissimo Portata del cacciatore Sembra orologio Callico cocco Bellissimo Questo lo sbloccheremo Lo sbloccheremo In estate Calzadora Poi Rian Denim Brezza di battaglia Tra cui anche una nuova Emote Bellissimo Integnatore del nomade E abbiamo Era senza tempo E miascolo Zampo 7 Bellissimo L'ultima skin Bellissimo Miascolo Quindi lui E la skin Segreta Ok Non male Abbiamo Miascolo Fusa Elis Callico Cocco Vacanza Callico Atmosfera Fusa Elis Riflesso Di sé Sono bellissimo Miascolo Fusa Elis Bellissimo Bell pass Battaglia Non è male Non è male Fatemi sapere Se anche voi Lo acquisterete Mi raccomando ragazzi Se non l'avete ancora fatto Lasciate un bel like Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo A un prossimo video Che è il vostro Romano di quartiere Come al solito è tutto Alla prossima Bella